A un certo punto hanno militarizzato, insomma sono diventati, da mezzo civili sono diventati completamente militari. Il reparto che li ha assorbiti di più era la 246e Masquadriglia che era autonoma, cioè se avevano, siccome bontà loro pensavano che fossero tutti piloti molto validi nel 1946, era autonoma e dipendeva solamente dallo Stato Maggiore, quindi noi non dipendevamo dai comandi militari dell'aeronautica intermedi, dipendevamo solo dallo Stato Maggiore, il che mi ha favorito poi nel fatto che sono stato da sempre l'aiutante di volo dei comandanti, dei generali, prima Pezzi e poi Rampelli. Io non lo so, non mi stimavo tanto, molto, però si vede che ero quotato per fare quel lavoro lì. Ero praticamente il loro aiutante, Pezzi l'unico volo che ha fatto senza ritorno l'ha fatto senza di me, perché in quel giorno mi aveva spedito in Italia per una missione veramente segreta e perciò aveva scelto un pilota per farlo e se non andava bene poteva portare delle complicazioni. E mi è andata bene, è andata bene e questo è stato Pezzi, è stata l'ultima volta che ho visto Pezzi, il giorno dopo Pezzi è scomparso, veramente è scomparso perché non c'è nessuno mai saputo dove è andato a finire. Grazie.